Nel quinto turno del campionato di eccellenza pareggia Redi Bianche tra il Delfino Curi Pescara e Lanciano che si affrontano al neutro del Delfino Training Center di Città Sant'Angelo. Pescaresi che ci provano nel finale ma non riescono a trovare il pertugio giusto. Riavvolgiamo i nastri ed andiamo a viverci le emozioni del match con Bonatti che torna al 4-3-3 con Di Giovacchino e Massa. Ai lati di Petraruno Lanciano con Bellitta alle spalle di Campagnol. Ad inizio gara le due formazioni si studiano a vicenda e fanno fatica a rendersi pericolose. Al quindicesimo punizione di Paolilli dai 30 metri e le zai non sicuro la pronunca in corner. Poi è la volta di Marzucco sinistro dal limite al lato. Al trentaseesimo protesta dei padroni di casa pallone scodellato in profondità per Petrarulo che cerca di involarsi in porta ma viene fermato da un tocco di mano di Mingola. Calcio di punizione cartellino giallo secondo Franchi che non ha valutato l'azione come chiara occasione da gol. Tra le proteste dei pescaresi i dubbi sono tanti con Petrarulo che probabilmente si sarebbe presentato a tu per tu con le zai. Passano sette giri di lancette, nuove proteste questa volta dei frentani che richiedono un penalty per un tocco di mano di Paolilli. L'azione prosegue con Bertino che viene liberato al centro dell'area destro secco con la traversa a negarli la gioia del gol. Con le immagini di Simone Luciani passiamo alla ripresa al primo e i seni dal limite. Calore si supera e si rifugia in corner subito dopo conclusione di Cozzi da posizione defilata. Palla che non trova la porta al dodicesimo stesso tentativo stesso esito sinistro di Gobbo fuori. Al trentottesimo grande occasione Delfino, angolo di Massa con il pallone che rimane al centro. Rossini ci prova in girata, ribatte la difesa lancianese. Poi ancora Alex Penne riceve da Massa ma con il destro non trova l'angolo giusto. Nel finale ancora Delfino Curi, angolo dalla sinistra con Massa che si ritrova il pallone tra i piedi ma non riesce a correggere in rete. Termina dunque così, pareggio ad occhiali tra il Delfino Curi Pescara e Lanciano. Un pareggio direi più che giusto, probabilmente c'era un calcio di rigore a noi che non ci è stato assegnato però non riminiamo su quello. Abbiamo avuto un paio di occasioni, probabilmente non l'abbiamo fatto proprio quello che abbiamo provato in settimana però non c'è altro che da ringraziare questi ragazzi perché comunque abbiamo preparato la partita in tre giorni con tutte le vicissitudini che ci sono e quindi va bene così, ci teniamo questo punto stretto. Mister Daleno, sette punti in tre gare, merita una conferma. L'ho già detto, lo ribadisco, la società vedrà e decideremo. Sicuramente questa è una squadra in crescita, è una squadra in salute, è un gruppo forte. Ora già la testa va domenica prossima. Beh sì, un pareggio giusto anche se forse ai punti la potevamo vincere se non avessimo sbagliato le decisioni proprio conclusive prima dell'ultimo passaggio. Abbiamo avuto delle situazioni importanti in ripartenza dove invece di portare a palla e arrivare contro i nostri avversari forse avremmo dovuto darla prima e correre in profondità per cercare di creare la situazione giusta. Però sì, tutto sommato un pareggio giusto e partita molto equilibrata. Grazie.